buongiorno a tutti benvenuti sulle mini news oggi ci troviamo ad almeno san salvatore a trocadero 5 20 ringraziamo le titolari lara e tania abbiamo con noi francesca vanotti piacere a tutti che è la vincitrice del terzo premio del concorsione di le mini news la fortunata vincitrice il nostro membro dal 3 maggio 2020 e vogliamo farti conoscere un po a tutti i membri del gruppo mi chiamo francesca vanotti e mi sono trasferita due anni fa dal meno san bartolomeo e mi sono iscritta in questo gruppo per conoscere un po di gente il luogo in cui abito come ti sembra il gruppo bello c'è da informazioni del luogo e di tutto quello che accade bene grazie francesca noi ti consegniamo il meritato premio che è un coupon dove potrai consumare 10 colazioni cappucce brioche 4 cadero 5 20 terzo premio e ricordiamo a tutti voi che se volete partecipare alle nostre iniziative e volete continuare a seguire tutte le nostre novità le news le notizie di almeno san salvatore almeno san bartolomeo di tutta la valimagna non dovete far altro che iscrivervi o alla pagina di le mini news o al gruppo oppure seguirci su instagram grazie grazie mille